Ciao a tutti, io sono Farashahira, una studentessa di italiano alla Università Tecnologi Mara. In questi tre semestri abbiamo studiato la lingua italiana ufficiale. Però sarebbe stato interessante studiare anche i dialetti e il loro uso. Perché, a mio avviso, i dialetti sono le vere e originali lingue di un paese e le persone reali usano spesso i dialetti. Forse anche più della lingua originale. Certo sono tanti perché ogni ragione o stato ha un suo dialetto particolare. Da qui la difficoltà per studiare, apprendere e praticare ogni forma dialettale. Ad esempio, nel film che trano di mafia si sente il dialetto siciliano. Ci sono parole che mi sono rimaste imprese di questo dialetto. Parole diversissime dalla lingua ufficiale. Per questo, nel film in dialetto siciliano, ma non solo per questo, si usano i sottotitoli nella lingua ufficiale. Un altro dialetto interessante è il romanesco. Ad esempio, Nafiota vuol dire cento. Nun me vero vuol dire non disturbare. Tecorco vuol dire tipico. Memorabili sono le canzoni in romanesco di Franco Califano, detto e Califo. Certo bisognerebbe vivere sul pusto, dove quel dialetto è praticato per poterlo imparare ed usare alla grande. Forse un giorno, chissà. Ciao a tutti, un caro saluto da parte mia e arrivederci.